Ecco cosa è in grado di produrre un restringimento della carreggiata di appena 50 metri. Le immagini girate questa mattina si riferiscono alla Satale 106, nel tratto reggino compreso tra gli svincoli di Arangea e Modena in direzione nord. Da due giorni sono in corso i lavori di messa in sicurezza dello svincolo sul torrente Sant'Agata e si protrarranno almeno fino al 30 giugno prossimo. Morale della favola, i tempi di attesa per raggiungere il centro di Reggio Calabria si sono letteralmente moltiplicati, sfiorando nelle ore di punta ma anche alle 7 del mattino ritardi complessivi e incolonnamenti anche di mezzi pesanti di oltre un'ora. Una vera e propria beffa per i cittadini, specie per i pendolari che devono raggiungere il luogo di lavoro, costretti a convivere ancora una volta con un fastidioso e insopportabile disagio. Appena un mese fa infatti altri lavori, sempre a cura dell'ANAS, avevano creato analoghi rallentamenti in prossimità dello stesso tratto. Un problema che si trascina da diversi anni dunque e Reggio TV ha più volte affrontato la questione, evidenziando le criticità di una delicata arteria, la 106, che continua a rimanere l'unica strada di accesso alla città capoluogo da chi proviene da sud.